È stata una partita, secondo me, sotto il piano difensivo, disputata perfettamente dalla nostra squadra. Poi nel finale ci siamo disuniti, forse magari cercando un po' troppo il gol, ci siamo sbilanciati e sul gol l'ora eravamo posizionati veramente male. Veniamo da due sconfitte, però non bisogna dimenticare che anche in passato, verso l'inizio campionato, abbiamo avuto delle difficoltà e ci siamo rialzati. Adesso è il momento di rimetterci in carreggiata e ricominciare a fare il risultato e dare il tutto per tutto. Arrabbiati perché è una partita che dovevamo vincere e delusi perché l'avevi persa all'ultimo minuto su una serie di rimpalli e distrazioni nostre. Per me queste due sconfitte non hanno compromesso niente perché lo dimostra il campionato di quest'anno in cui qualunque squadra può andare in qualsiasi campo della serie B e vincere o perdere. Lo dimostra la partita del Brescia ieri che stava perdendo 2-0 e è riuscita nell'impresa di rimontarla. Comunque tutti possono perdere con chiunque. Noi adesso abbiamo dieci partite, dobbiamo cercare di fare il più punti possibile in queste dieci partite e basta. Noi siamo artefici del nostro destino.